Buongiorno a tutti, sono Matteo Padovani, fonico presso lo studiotto di Cassina dei Pecchi. Siamo qui con questo secondo video tutorial di Pro Tools 10. Oggi vedremo come realizzare una registrazione audio e una registrazione MIDI. Bene, iniziamo con la registrazione dell'audio. Prima di tutto andiamo a creare una nuova traccia con il shortcut Command Shift N. Si aprirà appunto la finestra galleggiante della nuova traccia e andiamo a selezionare un audio track mono. La creiamo e prima di tutto dobbiamo impostare l'input della traccia audio, ovvero nel mio caso imposto l'input 3 della mia interfaccia audio, dove è collegato il microfono che sto usando. Successivamente, se non è già fatto di default, dobbiamo andare a impostare l'output della traccia per poterlo ascoltare nei monitor o nelle cuffie a seconda delle nostre esigenze. Per iniziare una registrazione dobbiamo armare la traccia su Pro Tools. Infatti adesso vediamo il meter che si è alzato. Praticamente adesso per iniziare la registrazione dell'audio dobbiamo premere REC sulla TRANSPORT per dire a Pro Tools di mettersi in modalità di registrazione e per iniziare la registrazione dell'audio dobbiamo premere PLAY. Come possiamo vedere adesso stiamo appunto registrando l'audio che deriva dal microfono. per interrompere la registrazione andiamo a premere su STOP. Adesso vediamo la forma d'onda della traccia d'audio e per ascoltarla basta premere PLAY. Una volta fatto questo possiamo andare a editare oppure a sistemare il suono con i plug-in per andare a mixare che poi successivamente vedremo in un prossimo video tutorial. Mentre invece per quanto riguarda la registrazione del MIDI possiamo prendere due alternative. La prima è utilizzare una traccia instrument che al suo interno contiene sia i segnali MIDI sia appunto l'ascolto del virtual instrument che stiamo utilizzando. Oppure invece possiamo usare una seconda opzione che è creare una traccia MIDI dove all'interno vengono solo scritti i segnali MIDI e invece utilizzando una traccia AUX andiamo ad ascoltare i virtual instrument. Partiamo, cancelliamo la traccia audio andiamo a creare prima di tutto una traccia instrument in questo caso la creiamo mono creiamo la traccia e per poter registrare il MIDI dobbiamo appunto inserire il plug-in il virtual instrument all'interno e dobbiamo metterlo in insert nella traccia instrument. In questo caso apriamo un sintetizzatore come vacuum che è di default su Pro Tools e in questo caso possiamo sia ascoltare infatti se vado a premere sulle note possiamo ascoltarlo oppure e possiamo anche direttamente nella traccia registrare i segnali MIDI per poter per poter registrare o utilizziamo una una tastiera muta collegata a MIDI alla nostra interfaccia audio oppure andiamo a aprire il MIDI editor che è la finestra galleggiante dove possiamo scrivere i nostri le nostre informazioni MIDI in questo caso per registrare in questo caso scriviamo con la col pencil tool scriviamo la notazione MIDI che vogliamo suonare e in questo caso poi dopo premendo play direttamente possiamo ascoltare il nostro virtual instrument mentre se abbiamo invece una una tastiera e vogliamo andare a scrivere le nostre i nostri segnali MIDI dobbiamo mettere in rack la armare la traccia e come prima armiamo diciamo Pro Tools di andare in modalità di registrazione e premiamo play appunto per scrivere i nostri segnali MIDI e questo praticamente per quanto riguarda la registrazione utilizzando una traccia instrument mentre il secondo il secondo metodo per registrare dei segnali MIDI è creare prima di tutto creiamo la traccia MIDI dove al suo interno ci saranno solo esclusivamente i segnali MIDI senza audio e senza poter ascoltare il virtual instrument per poterlo ascoltare dobbiamo creare una traccia AUX andiamo a crearla e bisogna fare un certo tipo di routing per poter per poter sia scrivere i segnali MIDI che registrare in questo caso nella traccia AUX andiamo a inserire appunto il plugin sempre vacuum come prima e in questo caso vedete che ascoltiamo solamente la traccia AUX se invece vogliamo scrivere i nostri segnali MIDI dobbiamo selezionare in output e selezionare vacuum ovvero facendo così diciamo alla traccia MIDI che di praticamente i segnali scritti nella traccia andranno a far suonare il virtual instrument presente nella traccia AUX infatti riapriamo il MIDI il MIDI editor se noi andiamo a scrivere dei segnali MIDI praticamente quando poi andremo a farli suonare come potete vedere dai due meter suonerà sia il segnale MIDI sia la traccia AUX presente sotto e sempre in caso invece dobbiamo registrare con una tastiera muta dobbiamo andare a armare la traccia MIDI sempre premere il REC e premere PLAY per poter iniziare la registrazione con questo è tutto e ci rivediamo al prossimo tutorial